In casa centrodestra ci sono un po' di malumori perché il 100% dello spazio politico, parliamo del maggioritario, è stato occupato da candidature esterne, in particolare quella di Lotito ha generato qualche disappunto. Lei come commenta innanzitutto il fatto che vi siano due candidature esterne e che cosa prevede a questo punto per il centrodestra? Io per quanto riguarda il discorso delle candidature esterne lo continuo a ribadire, noi paghiamo lo scotto di una pessima legge nazionale per quanto riguarda elettorale, perché nel momento in cui a tutti i partiti è consentito di indicare i nomi, nessuno vuole la riforma. Io che sono un proporzionalista convinto ritengo che se ci fossero le preferenze, le preferenze con delle liste anche a due, a tre, a quattro, questi discorsi non sarebbero avvenuti. Poi per quanto lei mi chiede per quanto riguarda Lotito, molti in questo momento ci stanno chiedendo della presenza di esterni, esterni, esterni. Io dico solo una cosa, noi usciamo da una legislatura che l'ultima volta abbiamo avuto cinque deputati, fra deputati e assessori, di matrice prettamente molisana. Io invito chiunque di voi ad andare a vedere nelle pagine, nei resoconti della Camera e del Senato, se questi molisani doc, perché sono tutti molisani doc, hanno fatto qualcosa per il nostro Molise. Ma questa non è una giustificazione nella maniera più assoluta. Paghiamo lo scolto di una pessima legge elettorale. Una domanda un po' più larga sulla coalizione, perché insomma ci sono dei malumori dovuti alla doppia candidatura esterna ai rispettivi collegi maggioritario Camera e Senato. Qual è la vostra interpretazione? Ma purtroppo la Lega, in base all'algoritmo nazionale della coalizione, non si è vista attribuire dei collegi uninominali, che laddove uno dei due collegi uninominali veniva assegnato alla Lega, sicuramente la Lega avrebbe presentato un candidato molisano del territorio. Quindi gli altri partiti, Fratelli d'Italia e Forza Italia, ha ritenuto delle segreterie nazionali di candidare personaggi non molisani e quindi siamo qui. Comunque il centrodestra è compatto, bisogna lavorare sul territorio, corriamo e anzi un invito ai cittadini molisani, votate i candidati molisani perché sono in lista.